Bene, ora arriviamo a questa ultima parte, ritornando indietro ai tempi della presentazione, e Michi già mi ha mandato delle foto dove il libro lo ha letto e lo sta tuttora leggendo, ecco, mi ha comunicato che non l'ho finito, ma comunque è in fase di, ecco, però giorni fa abbiamo parlato proprio di una cosa che lui ha sentito, una somiglianza, insomma, di un qualcosa che ho provato anche io con la nascita di Miami City, quando chiesi a Christine proprio di potermi fare da mamma, ecco, anche tu dicevi, no, hai sentito una cosa molto simile, quando sei arrivato a dirlo anche a lei, ecco. Sì, diciamo, apparentemente, diciamo, il rapporto magari che anche hai tu con Christine può essere apparentemente bizzarro, no, dici fuori dal mondo in un certo senso, a me è capitata una cosa, diciamo, simile, non uguale ma simile appunto, che è stato con Lorenza, che appunto anche per me è una seconda mamma. Ecco. Ed è incredibile, ma in realtà non solo io, conosco anche altre persone che hanno attorno persone, diciamo, più grandi anche anagraficamente, ma forse anche più grandi, come dire, con un po' più di esperienza, ecco, a livello di, non direi solo maturità, però forse crescita interiore. Sì, sì, sì. E quindi, insomma, un pochino mi sono rivisto nella tua storia, che poi è quello che racconti anche nel libro, e quindi anche se non l'ho letto, diciamo, so già che cosa troverò all'interno di quelle pagine e per quanto riguarda soprattutto il reciproco scambio, perché magari dall'esterno potrebbe sembrare un qualcosa di unidirezionale, come talvolta anche io ho pensato di me stesso. per poi invece scoprire che appunto è sempre un qualcosa di reciproco e solo che non ci rendiamo conto cosa diamo, cosa diamo, quello che siamo fondamentalmente essendo, è quello già il regalo che si fa all'altra persona. Che assurdo, sembra che non stai facendo niente, ma in realtà stai facendo tutto. È lì, sì. È assurdo questa cosa. No, infatti, poi ti ha colpito particolarmente qualcosa, qualcos'altro del libro? Qualcosa che ti è rimasto impresso, ecco? Più che del libro, del progetto in sé, diciamo, la cosa che più mi è piaciuta è il fatto che, sì, è nato come una proposta di Christine, eccetera, però lo vedo come uno strumento per trasformare, trasformare, come dire, un certo quantitativo di energia che c'era in un'altra forma magari, quella appunto del lutto che hai vissuto, eccetera, trasformarla e indirizzarla, farla crescere. Forse questa è la parola giusta e quindi, insomma, spesso ci dimentichiamo che c'è questa possibilità e magari sì, ogni tanto è bello avere qualcuno che ci sprona e ci dà, appunto, due ghiatti. Beh, certo, ma è un dono dal cielo più che altro, veramente, sono queste cose che, vedi, è così e basta. Bisogna accettarla così com'è e bisogna ringraziare, ecco, più che altro. Sì, o in generale, come le sfide, quante volte, no, si maledicono certi avvenimenti, poi più avanti ti giri e c'era un, non era un singolo evento caduto lì per caso, ma è una collana di perle, insomma, hanno un senso, glielo dai tu il senso dopo, insomma. Un'occasione. Sì, quindi per capire, perché poi ogni singola cosa diversa avrebbe cambiato chi siamo oggi e quindi... No, è vero, è assurdo pensarlo, ma così è tasselli che metti e se ne manchi uno l'avresti cambiato tornando indietro nel tempo. A volte si dice, eh, tornassi indietro, ma in realtà dopo che si elabora correttamente il passato non tornerei indietro. È vero. Non dico di aver elaborato tutto, perché mentirei, però le cose elaborate... No, ma chi è che elabora tutto così, al volo? Eh beh, ci vuole tempo, ovviamente. Ma poi c'è chi riesce anche da molto giovane, c'è chi riesce in anzionità, c'è chi non riesce mai, c'è chi riesce super... Sì, sì, sì. Dipende da persona a persona, ecco. Ancora siamo due giovincelli. Troppo, però... Sono trenta per entrambi, eh, però ancora, dai. Non sembra, non sembra. È vero, vero, confermo. Bene, dopo questa ringraziamo di cuore Michele per la sua disponibilità e per queste perle profonde. Noi proseguiremo, ecco, la nostra avventura con le conversazioni in un prossimo episodio. Intanto vi saluto e rimanete sintonizzati. Un ciao da entrambi. Ciao!